Ciao siamo qui dall'Istituto Donati con professoressa Cambioli Daniela e le volevamo fare alcune domande. Com'è nato questo corso? Questo corso è nato dal desiderio mio e di alcuni alunni di fare un'esperienza in Africa, di fare un tuffo nel mondo africano. Cosa fate all'interno di questo corso? Il corso si divide in due parti, la prima parte è per chi vuole fare un'esperienza di viaggio, turismo responsabile e volontariato in Malawi. La seconda parte invece è un laboratorio di percussioni, musiche, danze africane. Chi sono i docenti di questo corso? Sono io e più degli esperti africani, Anissa Guizzi che è una cantante e insegnante di musica, canto, poi Devon che è anche lui un cantante musicista e poi tutti i ragazzi rifugiati che stanno facendo un progetto di laboratorio musicale presso la cooperativa Labirinto. Può dirsi le provenienze di questi docenti? Allora, i ragazzi vengono dall'Algeria, dalla Nigeria, dal Congo, dal Camerun. Ok, grazie mille. Sono Andrea Spadoni e siamo all'Istituto Donati, siamo qui per fare alcune interviste riguardanti il corso l'Africa Chiama e siamo con Alessandro Torreggiani, faccio questo istituto. Perché hai scelto questo corso? Intanto è molto interessante il discorso di questi ragazzi che comunque cercano di integrarsi con la nostra società e grazie a questo corso possiamo anche capire e comprendere qual è la cultura africana, insomma. A noi ormai è abbastanza vicina, perché insomma con i flussi di migrazione che ci sono dobbiamo confrontarsi con questa realtà tutti i giorni, insomma. E quindi insomma questo corso è importante anche dal punto di vista sociale, insomma. E come ti trovi in questo corso? Molto bene, questa è la quarta lezione, penso quinta. I ragazzi si trovano molto bene e noi ci fanno sentire a nostro agio, dato dal fatto che comunque sono delle persone che non si trovano nella nostra... cioè hanno una cultura completamente diversa dalla nostra, quindi potevano trovarsi in difficoltà, insomma. Ultima domanda, quali sono le cose che ti piacciono di più di questo corso? Sicuramente la musica, la forza che hanno nel dimostrare la loro cultura anche attraverso la musica, anzi soprattutto attraverso la musica. Grazie per essere stato con noi, qui dall'Istituto Donati è tutto, alla prossima.